Qual è la nuova forma di lavoro non in Italia, nel mondo? Lo smart working, ovvero cos'è lo smart working? Lo sappiamo, è la possibilità, grazie ai mezzi che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione, di lavorare a distanza, cioè di poter fare da qualsiasi altro posto, purché ci sia un collegamento, il lavoro che prima dovevi fare stando in una sede, quindi in un edificio con una scrivania, quella scrivania, la tua scrivania, e il fattorino, e gli orari, il badge per entrare, uscire, la mensa, c'è tutte quelle cose che comportano dei costi enormi, ma necessari, quando questo è inevitabile, per le aziende. È anche un fastidio migraniente per i lavoratori, però se devi lavorare e c'è una sede di lavoro e puoi farla solo in lì, lì devi andare. Ma se lo puoi fare stando a casa o al tuo paese? Beh, si fa, è pieno il mondo di grandi aziende che hanno anche milioni di, fra dipendenti, collaboratori, fornitori, magari l'azienda è un ufficetto da qualche parte e poi tutte queste persone sono sparse per il mondo, magari in paesi dell'area, come dire, del pianeta, tecnologicamente avanti, ma economicamente, come dire, ancora convenienti, molto convenienti per le aziende. Così tu hai, che so, grandi aziende della comunicazione, ma non solo, degli Stati Uniti che hanno centinaia di migliaia di persone che lavorano dall'India, dalla Cina, eccetera, eccetera. Questa è la nuova frontiera del lavoro al mondo. E cosa fa questo governo? Ha tolto di mezzo le procedure semplificate che erano state varate alcuni anni fa per lo smart working. Ma siamo matti? L'Italia è tornata indietro al 2017. Sapete cosa vuol dire? E lo sapete, sì, molto meglio di me, immagino. Queste nuove tecnologie producono strumenti che normalmente nel corso di un anno raddoppiano, in qualche caso decuplicano, le loro potenzialità, dimezzando i prezzi in un anno. In sette anni riuscite, e immagino di sì, a fare i conti di che cosa è cambiato dal punto di vista digitale, diciamo, degli strumenti, dei computer, dei telefonini, di tutte quelle cose con cui si lavora oggi. Bene, l'Italia ha riportato tutto a sette anni indietro. Perché? Chi si è mosso per fare questo? Si vede un'impronta su questa roba? Un'impronta si vede e sarebbe quella di Renato Brunetta. Renato Brunetta è il presidente del CNEL. Cos'è il CNEL? Sarebbe una cosa, come dire, di qualche rilevanza, prima che fosse presieduta la Brunetta, voglio dire. Consiglio nazionale per l'economia e il lavoro. Ora, immaginate di essere voi il presidente del CNEL e siete in un mondo in cui il lavoro va in quella direzione. E cosa fate? Vi scagliate contro il lavoro a distanza dicendo, offendendo tutti, non solo i lavoratori, ma anche i datori di lavoro che sarebbero così scemi da pagare qualcuno che non lavora. basta far finta di lavorare. Far finta di lavorare. Ma Brunetta, mai visto qualcuno che fa smart working? Ha mai visto qualcuno in l'editoria che si mette lì e si passa a pagine di giornale, corregge libri, fa lì le nottate? Perché? Perché se tu consegni il lavoro fatto bene, nei tempi definiti, eccetera, eccetera, al tuo datore di lavoro non gliene frega niente se l'hai fatto di notte, di giorno, dalle 8 alle 16 o cose c'è. Gli interessa che il lavoro sia fatto bene nei tempi definiti e perché a questa maniera cosa succede? Che i datori di lavoro risparmiano un sacco di soldi. Ci sono aziende che invece di avere centinaia di dipendenti in una sede hanno delle sedi quasi poco più che di rappresentanza in cui c'è un numero ridottissimo di postazioni di lavoro in cui al massimo c'è una rotazione quando servono e gli altri lavorano dove vogliono. Che significa? Che non paghi affitti, non devi comprare edifici, non devi far cablare niente, non devi far... Cioè sono tutti costi morti, fissi, che vengono risparmiati e pensate ai costi che risparmia il lavoratore, il pendolare che non deve più andare, tornare, fare la mensa e cose, se c'è la mensa e non deve... Fa tutto, sono tutti soldi che non vengono letteralmente sprecati e vengono investiti in altro ovviamente. Tutto questo a Brunetta non piace perché pensa che siano tutti, devo pensare, sono una persona semplicissima per cui sto alle cose che mi dicevano papà, mamma, cioè la gatta della dispensa quello che fa pensa e quindi pensa che tutti, Brunetta, pensa evidentemente che tutti facciano finta di lavorare come lui probabilmente, gli altri, Brunetta, lavorano perché se non lavorano non c'è una politica compiacente che gli dà una presidenza, che gli dà una prebenda, che lo mette a posto, no, quello viene licenziato se fa finta di lavorare e pensate quanto gli fa piacere sentirsi insultato da chi campa grazie al popolo italiano. E come nasce questa insofferenza di Brunetta per il lavoro a distanza? Bisogna tornare al 2017, cioè dove, abbiamo avuto gli esperti del CNEL che ci hanno spiegato che è giusto così, cioè Vilmar a Milaclava, cioè torniamo indietro, perché il nostro paese come tutto il mondo, come sapete, è stato investito dalla più grande pandemia della storia dell'umanità, Covid-19. Il Covid cosa ha fatto? Ci ha rinchiuso in casa e quindi ci sono molte aziende, uffici, hanno dovuto chiudere e chi poteva ha continuato a lavorare da casa. Ora io faccio il giornalista e ovviamente come dire per il giornalista è più facile l'articolo se lo scrive da casa la pagina del giornale la organizza a computer e poi la spedisce cioè se può fare diciamo. Ma questo poi è diventato non solo possibile necessario ma obbligatorio per tanti lavori perché non potevi uscire di casa. Per evitare questo vorrei ricordare quello che ai miei occhi appare come un crimine rimasto impunito. La regione Lombardia che è stata la più colpita e da cui è partito il morbo non ha chiuso un paese con la Lombardia investita infettata da covid quando ad Alzano Lombardo hanno chiuso l'ospedale perché c'era la gente con il covid che circolava per i corridoi le stanze infettava medici infermiere eccetera in poche ore è arrivato l'ordine dalla regione Lombardia di riaprire l'ospedale perché perché siccome l'infezione era in tutta la regione se chiudevano quell'ospedale dovevano chiudere tutti gli altri e i paesi e questo cosa ha fatto? Ha fatto moltiplicare i contagi secondo me questo resta un crimine impunito è una mia opinione e quindi che cosa è successo di conseguenza? Che quando si è visto che i tanti che erano in Lombardia a lavorare ma immigrati in Lombardia magari dal sud ma non potevano andare a lavorare quindi dovevano stare lì abitare pagare mangiare vivere tutto sulle spese senza poter lavorare e magari da piccoli imprenditori o altro come dire guadagnare solo spese oppure studenti fuori sede cos'hanno fatto? e lì si apre un altro capitolo appena si è saputo che ci sarebbe chiudere sarebbe come dire dato una stretta guarda caso le notizie sono state fatte trapelare prima si è avuta un'ondata di fuga dalla Lombardia praticamente dalla Lombardia sono andati via qualcosa come mezzo milione di persone senza nessun controllo alla partenza ma all'arrivo che è una follia cioè il controllo all'arrivo che significa se uno ha il covid lo fermi non è che gli fai prendere il treno l'aereo e poi lo mandi a Canigatti in modo che anche lì abbiano la loro fetta di covid cosa è successo al sud quando si sono visti arrivare tutte queste persone per fortuna i presidenti delle regioni del sud appena c'era si individuava un infetto da covid si chiudeva il paese a questa maniera hanno impedito che dilagasse come avvenuto al nord questo in Italia ce l'hanno raccontato poco è male bisogna leggere giornali stranieri per capire cosa è successo il paese per esempio scrisse che la gestione della pandemia in Italia ha capovolto la narrazione storica del paese cioè grande efficienza al sud con pochi infermieri pochi medici pochi soldi pochi ospedali grande incompetenza al nord con tanti soldi tanti medici tanti infermieri tanti ospedali e Los Angeles Times scrisse che il disastro della gestione lombarda del covid verrà studiato per anni in tutto il mondo per l'enormità degli errori commessi ma questo comportò comunque che alcune centinaia di migliaia di persone che lavoravano lì si ritrovarono a sud e chi poteva continuò a lavorare a questa maniera si scoprì che potevano tranquillamente fare il lavoro che facevano a Milano stando a sud per cui partirono una serie di nuovi contratti rimodellamento dei dei rapporti di lavoro perché e perché immaginate non solo la stessa cifra guadagnata al nord o al paesello tuo al sud fa una bella riferenza ma anche una cifra inferiore se non devi pagare anche casa di Milano anche una mensa una comangiare a Milano a casa c'ho mamma e me cucina eccetera eccetera e potete immaginare in più quella libertà dava anche una spinta a meritarsela per cui in molti casi il lavoro migliorò di molto con grande gioia dei datori di lavoro che spendendo molto meno per le sedi si ritrovavano con un lavoro almeno pari a quello che avevano prima pagato meno per cui partì anche una normativa sulle procedure semplificate per lo smart working ora la prima volta che si contò quanti di questi casi c'erano si vide che erano almeno 50.000 cioè non due o tre non era ovviamente un fenomeno italiano in quel periodo si poteva leggere uno dei migliori articoli scritti in quel periodo io lo riporto quasi integralmente in un libro che si chiama Il male del nord cioè proprio su questa sulla gestione della pandemia scritto dal corrispondente italiano della stampa di Torino a New York che per spiegare come New York si stava svuotando per il covid non portò i rapporti del del ministero le cose eccetera fece il racconto del palazzo in cui lui abitava con la sua famiglia per cui la coppia di docenti del Columbia University del dodicesimo piano adesso stanno nel Wisconsin e lavorano di lì cose eccetera l'ingegnere che progettava ponti qui a Manhattan cose eccetera adesso se ne è andata a Long Island eccetera insomma erano rimasti soli nel palazzo le quotazioni a New York stavano crollando e c'erano le società immobiliari che erano alla canna del gas c'era un fenomeno che stava dilagando nel mondo ovviamente si ebbe anche in Italia finita la pandemia Milano scopre che per la prima volta ha un andamento demografico negativo meno 20.000 abitanti succede l'ira di Dio il sindaco di Milano Peppe Sala cose eccetera ma fra tutti il più incarognito perché è inutile girarci attorno con i termini era il signor veneziano oltretutto Renato Brunetta che cominciò a dire basta con questi che fanno finta di lavorare stando al paesello loro al sud tornate a Milano perché quelli che mancano a Milano significa che chiude un bar perché non c'è più i suoi clienti significa che i prezzi gli affitti delle case non continuano a crescere ma calano le cose scusi signor Brunetta ma che te frega a te di dove lavoro io se sta bene a chi mi paga e sta bene a me che lo faccio a te cosa diavolo ti frega no si vedeva messo in crisi il modello Milano perché mancavano 20.000 persone questi si stavano stracciando le vesti e urlando ingrati e fannulloni per meno 20.000 il sud negli ultimi anni ha perso 2 milioni di persone altro che bar che chiude ma questo per loro è normale però per fortuna il signor Brunetta fu più o meno cortesemente come dire mandato a casa sua e la cosa sembrava finita lì con Brunetta presidente del CNEL oggi abbiamo che questo governo che lo ha messo ne fa di danni questo governo ha rimosso le procedure semplificate quindi ora dal primo di aprile chi vuole fare smart working i contratti gli accordi sono tutti personali uno a uno il dipendente con l'azienda immaginate quale montagna di scartoffie per le aziende quale differenza fra l'uno e l'altro perché se no ma a quello gli hai detto 25 a me 24 cioè stanno seminando zizzania non solo ma se si scopre che questo accordo indicando le ore quali ore quali giorni eccetera eccetera non è comunicato entro 5 giorni partono le multe contro le aziende una multa per ognuno di questi ovviamente per dare il buon esempio questo vale nell'economia privata nel pubblico è stato fatto di meglio cioè di peggio di meglio nella visione brunettiana ora lo smart working era particolarmente adatto a chi ha le situazioni cosiddette fragili le persone fragili da oggi in poi la fragilità sono cavoli loro a questo governo non gliene frega niente della loro fragilità si attacchino al tram e così le aziende cioè sapete qual è il risultato che per esempio chi doveva sono stati citati dei casi in aziende giornalistiche come suo lavoro fare delle conferenze degli incontri online con delle persone e quello era il suo lavoro l'incontro online invece di farlo da casa sua deve andare in azienda e farlo online dall'azienda ora c'è gente che si fa qualche centinaio di chilometri per fare questo ci pensate oltretutto inquinamento treni auto cose eccetera il pubblico per dare il buon esempio già da prima cioè entro il 31 dicembre 2023 ha abolito queste chiamiamole facilitazioni in realtà sono possibilità per le situazioni fragilissime che significa di persone che magari lavoravano da casa per problemi di salute molto seri molto gravi che queste persone abbiano dei problemi enormi di salute ma che ciò nonostante possano essere attive vive collaborative lavorare stando a casa non gliene frega niente dal 31 dicembre anche i casi fragilissimi niente più e l'Italia è tornata a Vilma dal Mila Clava al 2017 ovviamente in controtendenza rispetto al resto del mondo nel famoso diagramma della stupidità del professor Cipolla poniamo sia questo ci sono tirate gli assi quattro quadranti la stupidità maggiore è quella del quarto quadrante nel quarto quadrante succede che lo stupido pur di fare un danno a un altro ne produce uno più grande a se stesso ecco questa è l'Italia oggi con i nostri ringraziamenti ai grandi consigli all'ispirazione del professor la solidarietà ai suoi studenti Brunetta Renato l'Italia se vuole fare smart working ragazzi abbiamo avuto un grande Edoardo che esasperato da tutte queste piccinerie un giorno disse iatavenna ecco iatavenna no perché per restare Edoardo ha da passare a nuttata anzi sapete che c'è facciamola passare noi e vediamo di mandare a casa senza smart working il signor Brunetta e gli altri che la pensano come lui